Mi dichiaro estraneo da tutti i fatti contestati, così il presidente D'Alfonso apre la conferenza stampa seguita alla notizia dell'inchiesta a suo carico e a carico di altre quattro persone per reati che a vario titolo comprendono abuso e falso. La vicenda è legata all'affare Pescara Porto, i palazzi in costruzione sul lungomare sud di Pescara. Assieme al presidente D'Alfonso sono indagati l'avvocato Giuliano Milia, il dirigente del comune di Pescara Guido Dezio, l'ex segretario particolare di D'Alfonso Claudio Ruffini e il dirigente del genio civile Vittorio Di Biase. Sotto la lente di ingrandimento della magistratura c'è la concessione edilizia per il progetto che sta nascendo a ridosso dell'area ex cofa nei pressi del porto turistico Marina di Pescara. D'Alfonso, nell'incontro di questa mattina, ha espresso massima fiducia nel lavoro della magistratura e della polizia giudiziaria e non ha risparmiato qualche stoccata ai 5 Stelle che con la loro denuncia hanno dato il via all'indagine condotta dalla procura di Pescara e dall'EPM a Narita Mantini. Merito alla poltrona di senatore a vita, ironizzato D'Alfonso parlando di quanto fatto per la mitigazione del rischio idraulico. D'Alfonso ha chiarito che il genio civile non c'entra nulla, che la competenza su quelle aree sarebbe in capo all'autorità di Bacino e a quella marittima, concludendo che al posto di un'inchiesta servirebbe un supplemento di conoscenza della materia da parte di che ha effettuato la denuncia, magari organizzando un convegno. Per me la sorgente di verità coincide con la documentalità che ho modo di rilevare, assumere e studiare e dopo aver studiato ho accettato ogni forma di riscontro e questo mi permette di dire che siamo davanti a un non fatto penale, siamo davanti al massimo ad una verosimiglianza che nulla ha a che fare con la verità. Su questo le notevoli competenze dell'autorità giudiziaria avranno modo di rilevare tutto in verità senza nessuna emotività da spingimento, né ad opera di chi denuncia per fatti politici e neanche ad opera di alcune rappresentazioni della stampa che diciamo sono frettolose per mancanza di tempo. Lei è stato chiamato in Consiglio regionale a rispondere di questo, cosa dirà? Intanto osservate il mio viso e misurate le mie parole, sono contento ogni volta che vengo chiamato per concorrere alla verità e alla consapevolezza altrui sono contentissimo, ma soprattutto vi dico che a volte su alcuni fatti oggetti di denuncia più che un'inchiesta serve un convegno.